ciao a tutti questo è il mio primo video il mio gameplay dove giocherò a lol grazie per i like per gli iscritti e per aver visto me ciao a tutti ci vediamo al video ok ragazzi ciao ciao oggi sto per giocare a lol bene questa è la schermata e vai aspetta devo comprare la spadina allora compro questa cosa qui che mi dà 70 salute attacco fisico mi fa pure rubare la vita e poi la borraccetta della vita ok ripeto in boomerang perchè ovviamente ho scelto niente perchè è il mio preferito anche se non la so usare minimamente e vado qua in mid eccolo che carino c'è come si vanno da mare gnar dopo non so quanto tempo sono riuscita a comprarlo anche se non lo so minimamente usare ma ora lo scopriremo insieme come funziona che figo oh ma l'hanno lasciato da sola sto in mezzo che cazzo vuole che insegna di rilasso ah ma mica a me vai gnar mostra la tua potenza mostra la tua potenza attacca e vai che cazzo vuoi tu ma chi ti ha chiamato ma tornate da dove sei venuto questa è la mia zona via io posso lanciare addosso il boomerang sei sicuro non si può fare pure lo clicco non si può fare ma io lo posso lanciare addosso no via dalla torre ti spara vai vai uccidi quello uccidi quello vai è già il boomerang eeeh allora usiamo la e ah questo è quello che salta in testa alle persone no via dalla torre ma perchè e dai però come cazzo fa ad avere già mezza vida vai distruggili stavolta non vuoi oh eccolo eccolo si incazza boh gnar semina e distrugge terrore no vai via dalla torre allora perchè allora perchè non so che funziona le torre ti uccidono se fai avanti non lo so da sola che devo usare guarigione andai ci attacca sto concentrando che oggi devo fare la persona seria ah ah mu attacchiamo il pezzo di merda no via dalla via dalla via corri e vai che cazzo vuoi oh aiuto ah è vero c'è la pozione ah ah ora torno questo stronzo guarda no aspetta un attimo che non mi sono guarita va al culo ah ah adesso hai paura vero vero scappi ah col mio mega boomerang oh non è vero ma non ci credo ma non neanche fatto la kill non è vero ok torniamo a vendicarci a rieca ecco quello che mo ci sopra ti è sta boomerata stronzo mamma mia mo ti salta sopra non me lo posso fare si lo posso fare ah no 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 sei stato ucciso vabbè questa è la prima volta che ci gioco è solamente quindi se non sono brava cioè capitelo vai vai corri ma ma c'è una merda peggio di mio cuore livello 2 non sono così schifo oh mi sta attaccando la torre via via da qua morite tenta di far grosso che sei sempre di livello 3 cari eccolo questo è rotto il cazzo mamma mia con le vincoli è stato ucciso chi è manco l'ho preso mamma mia la kill sta per arrivare me lo sento me lo sento adesso arriva non andare sotto la torre pure te come un alleato da stato ucciso ecco il coglione che è stato davanti a me che è stato ucciso ma sotto la torre no pure tu tornatene via dalla torre cazzo vuoi tu imbecille te tu hai salto il testo che cazzo sto facendo mi schifo con la partita di rio non è vero questa è una cosa fatta apposta per far vedere alla gente che è la prima partita che cosa vuol dire giocare a questa cosa in realtà io sono forte che non ve lo voglio far vedere che cazzo compro questo qua vai torna all'attacco alleato giustiziano è morto di nuovo quello a me giustiziano oh vabbè m'ho capito vai gnar vai gnar vai gnar ah ma sei ancora lì te ma non te ce l'hai vedi al cazzo no levo di e vai ah ma sono livello 5 comunque cazzo ah no sei livello 6 aspetta vatti ritirata un attimo un nemico è stato eh io qua sto a combattere con questo da quando inizio guarda no ha ha c'hai paura adesso cazzo gnari incazzati così diventi gigante dove cazzo è andato quello hai paura eh rieccolo ah ma allora non ti sono bastate le botte eh brutto stronzo eh che mo ti salta addosso eeeh e vai e vai ho fatto una kill ha fatto una kill mamma mia il cadavere il cadavere è stronzo ah ma non fai più il grosso con me no no vi è ce vi è ce porca troia vi è ce vabbè torniamo piccola torniamoci più tardi mamma mia la potenza la potenza pari eccolo e non ti sono bastate i pigneti prima ancora no aspetta un attimo che cazzo vuoi invece io ti riattacco pa 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 muori no non è vero non è vero aspetta no 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 aspetta ah 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 mamma due mamma mia eh sì adesso così si fa guarda 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 mi ammazza uno che bestia cioè ragazzi adesso sì che Gnar si riconosce eh lo so lo so parlando di me mi riempie d'orgoglio questa cosa sei grandissimo Gnar continua così addirittura cazzo cliccati non laggare tu che vuoi qua ma avete rotto siete piccoli ancora che tirate le cose cazzo vuoi deficiente non mi dire quello che devo fare lo so che devo fare ora devo andare eh lo so ma si sta ancazzando eh calla e vabbè poi non ci posso più andare che chiamo base bah guarda guarda chi c'è di nuovo non ti sono basate le botte di prima mamma mia guarda le botte che gli sto addosso stronzo gnar prendilo si ma me l'ha ucciso quello stronzo ma no io faccio il lavoro quello arriva glielo lancia una cosetta l'ammazza ma te sta bene stronzo così la impari a rubare i nemici degli altri inefficiente vaffanculo non è vero disparo con questo dai non è vero quello che ho rubato la kill cioè ammazza lui eppure arrivano 5 si può mandare affanculo nella chat cioè a me lo schiopo voglio questo vabbè mi tuffo dai appena torno la compro che carino chi è sto bigrotto ma chi è quello è sempre il coglione di livello 5 mamma mia c'è bile botte stavolta mamma mia penso stavolta ti distruggo ti distruggo mi puoi sentire la città la città la città è stata uccisa doppia uccisione no via ma c'è una torre dov'è quel pezzo di merda di prima che hai scappato vieni qua vieni qua boh tieni ho distrutto la torre ho distrutto anch'io che cazzo è che mi intrappola ancora quel fraccio di merda l'odio ho rotto il cazzo oh col carino lancia il puff quanto è puccioso questo personaggio serio che c'è ah mo compro lo spadone da 2 oh è mo attacchiato cazzo arrivo eccolo ma allora vuole botte non te so eh mo scappi e no è mo attacchiato cazzo non è che vai dove pare mamma mia ti ho ammazzato sto facendo da serie di uccisione mamma mia il fomento vabbè sono sempre dei passi vabbè mi è scappato il dito del teletrasporto mettiamola così ecco junior mamma mia junior senti questa era potentissima è la mia brutto stronzo è la mia faccio un culo porca troia torna qua torna qua mamma mia junior torna qua arria ecco junior oh hai rotto il cazzo che mi entrappoli eh ah ah ma non fai più il grande scappa stronzo scappa ah sono inarrestabile sono io sì ancora sto fumentando oh tu che cazzo sei vuole botte pure te no non è vero non è vero lascia più del mio ti prego ah sto scappando stronzo che cazzo sto facendo che cazzo che cazzo ha fatto porca troia quanti cazzo hanno ammazzati una donna sto dominando sto dominando ah ti ho peso eh mamma mia mo te faccio la kill mo te faccio la kill vience 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 stronzo ah sono sovrumana e io ci torno porca troia qua 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 dov'hai non ci stacca mi cazzo ti distruggo lo stesso bobo sento solo un casino ti prego tu cazzo vai mi dimina ok 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 ci ho avuto un attimo di cadroia mi sono sentito a morire per due minuti sto sovrumana non muoio carneficina ah no ho detto a quell'arte ma è uguale te che cazzo vuoi che muori sempre via andate i miei pro di destri perché ci sta stodornando dalla pia perché vai che non ti ho dato l'ok mi sta lancando tutto non ci stacca ma non cazzo mamma mia sono leggendaria mamma mia non ci stacca ma non cazzo venite 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 se mamma mia attacchiamo tutto attacchiamo distruggiamo tutto mamma mia mamma mia il bordello non c'è dai vabbè le facciamo una vittoria molto razionale se vi è piaciuto il mio video mettete like sotto iscrivetevi al canale subscribe io ci do la mamma e ciao è qualcosa che mi fa di cia